quando il dolore ci colpisce viene naturale chiederci il perché sia successo ma in quei momenti quando tutto è buio intorno a noi diventa difficile perfino fare un'affermazione l'unica cosa che ricerchiamo è essere liberati dall'angoscia del dolore quando si presentano le difficoltà piuttosto che fare l'impossibile per evitarle è più saggio affrontarle cercando di trarne ogni insegnamento possibile come giuseppe allora possiamo scoprire quanto dio sia in grado di usare i nostri problemi per un fine molto più grande attraverso l'afflizione ad esempio possiamo imparare ad affrontare ciò che ci ferisce nel profondo stando però alla presenza del solo che guarisce la bibbia ferma la sera ci accompagna al pianto ma la mattina viene la gioia salmo 30 verso 5 amico se stai soffrendo la luce del tuo nuovo giorno presto spunterà dio l'ha promesso il tuo dolore si attenuerà nel tempo perché sarai pronto ad accettarlo piuttosto che a evitarlo non siamo chiamati a dimenticarlo bensì a ricordarlo in modo diverso con maggior gratitudine e minore sofferenza il dio di ogni consolazione ci consolerà e noi saremo in grado di consolare quelli che si trovano in qualunque afflizione seconda corinzi 1 versi da 3 a 4